Quello nuovo non mi piace per niente ragazzi, c'ha una mira che mi pare COD, veramente Mi sembra Fortnite, COD Fortnite Che non mi sembra più nemmeno il Fortnite, guarda veramente Movimenti molto simili a COD, la scivolata, lo scatto Poi ci hanno messo, ci hanno messo i mirini e come si dice Quella roba lì che 4 punti, devi puntare un pochetto più in alto quando spari Non mi ricordo, c'ho la memoria porca puttana, c'ho problemi di memoria Allora chi è qua, chi è qua C'è uno, c'è uno, dove è? L'ho ammazzato, l'ho ammazzato, ok perfetto La ballistica, la cadenza, il tiro, madre Che odio, non sapete quanto lo odio quello io Ho odiato Fortnite solo per questo Ma poi fanno un sacco di aggiornamenti a cazzo di cane, io non lo so Chi è qua? Signori C'è uno qua? Non è qua che ti faccio assaggiare le palle Ma dove sta? Non lo vedo Perché sta? Ma sta sotto sta? No, 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 no Lì sotto anche sta nessuno Ma dove cazzo vado? Sta a Fosca Grazie Ciao bella Allora posso io JKR gioco solo con le sub Sub su Twitch Costa 4 euro ragazzi Non è che Non è per cantiveria ma l'ho detto prima il motivo Ma scusami eh Io non è che sto scemo però non riesco a vedere dove stanno Sta qua sopra Sta scendendo Sta scendendo Dove? Sta scendendo dove? Ah eccolo eccolo Oh se è forte sta cinta Minchia però se è difficile sta roba Minchia Ma che è ste palle? Oh no 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 che cazzo sono messo qua Dove sta? Stanno ancora nemici? Come è morto? No due sono morti Ah ok 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 se no te restavo io Sta ste pallette qua Cazzo non c'ho le armi non c'ho una R Non c'ho niente Allora vabbè meglio di niente dai Uso qua le cose Andiamo Vai Dove sta no? Uh qua mi piace questa Oddio Oddio Sono full Ma vogliamo fredda Zeus? Sì 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 vai 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 attiva attiva Che aspetti Oddio Mecca Ma perché faccio un cusci schifo? Mi prendo danni pure da solo Prendo danni Qua qua prendo le pallette Qua qui c'è un mantecchio Qua Vieni C'è gente? C'è gente raga? Sì c'è uno là sopra Là su stavamo prima Dove? Là su Là su Stavamo prima Io sono salito Allora io vado via Scappo Dove? Eh Due Né uno né due Dove? Uno Uno Sopra Sopra L'acqua Io sandissimo Io scappo via qua Qua qui c'è un mantecchio Sono morti tutti Io non c'ho Non c'ho curi purtroppo Sono morti tutti raga Uno è morto Qui gli altri Eh io arrivo perché S'ho dovuto scappar via Non ci avevo Non avendo pure zero Oh Arriva la moto Arriva la moto Arriva la moto Eh no Eh dai Stacazzo di R Di merda Che spara colpi singoli Arrivano due Occhio Eh vabbè Eh ruota E te conviene Scappa via Scappa via Se riesci Ci viene arrestato Non rifetta Eh Brutta sta partita Eh sì Purtroppo Eh vabbè Capita Eh vabbè Non rifetta Non rifetta Capasilotto Eh vabbè Le prime non costano No 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 La sabbio col prime È gratis La sabbio col prime Grazie mille ragazzi Ci vediamo alla prossima Purtroppo che devi fare Lascio spazio ad altri Ciao belli Ciao bello Ciao 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 Eh ho poca vita Poca vita Poca vita Allora Eh Allora vediamo un po' Allora Raiska uno Ok Poi vediamo se ci stanno altri Certo certo Potete mandarmi la richiesta Mandatemi la richiesta Ciao Matteo Ciao ciao Raiska Mandatemi la richiesta E poi Certo due toni Tutto bene Tutto bene Te invece come stai Ho mai fatto Benissimo Ottimo Bello bello Mi fa piacere Quando la gente sta bene Sto felice Pure io Allora c'è qualcuno Che vuole giocare Che ancora non ha La richiesta D'amicizia Dentro Chi è che vuole La richiesta D'amicizia Su su Ciao Logan Ciao Roby Roby scola Roby scola Posso dire Colore spagnolo Che senso c'è A scriverle Adame Come ti chiami Zio Ah eccolo Zio Zio Bet E allora via Fammi vedere se funziona Ha startato la bet Sì Perché c'ho la cosa con lo stream deck Una cosa nuova Una roba nuova Soprattutto il nero Il nero è spagnolo Ma fai femmi Eh Fai femmi Fai femmi Non ci gioco più Ho smesso Ho chiuso per sempre Allora Anzi Tra 20 minuti Tra 20 minuti Tra 20 minuti Ci gioco Tra 20 minuti Fai femmi Tra 20 minuti Orca droga 30.000 sul no E una madonna Quanta gente sta a puntare Oh mezzo milione di punti Mica scherzi Non è qua porca troia Ma voi siete forti ragazzi Oh mi avete messo pronto Ah no Sono io lo stronzo Che non mi ho messo pronto A te me fai giocare E come ti chiami Dimmi come ti chiami E ti mando la richiesta amicizia Ma è collo senza costruzioni Senza Senza Ok Ciao due toni Due t Ciao bello Quattro mesi Dai carichi Forti forti Vai vai Io andiamo Vedi vince che ho puntato Tutto su idee Beh lo mio Io so la maglietta De Danny Lazzarine Qua è impossibile che Matteo un green chat Non mi legge più Da tanto tempo Qua se vince basta Se va che è una meraviglia qua Matteo tra tre giorni Mi scade la sub Poi la rifaccio Ah si 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 ma sembra Matteo un green chat Non mi legge più Come te leggo più Come ti chiami Eh siberiano 98 Si che te leggo Prima hai scritto Ciao Lexix DTV Come stai Madonna Lexi Sta la bellissima Lexi Ingiata Su tiktok Come stai Lexi Ciao Grim Grim 98 vita Grazie mille della sub Con tier 1 Grazie mille Bellissima Grazie Ho puntato sul no Non vince Come no Qua si vince C'è qualcuno di forte qua Io A posto E' vinta Sono diamante 2 E che significa E' ranked Ah ranked Quindi si è forte Ma sai io non sono troppo forte Dopo non c'è di divertire Chi è qua Giulio Grazie mille Giulio 44 rose Ma quanto so 44 rose Quanto so 44 centesimi Dove Dai carichi Eh 44 centesimi Già inizia Allora aspetta No Giochiamoci La soft E poi dove andiamo Ah giochiamoci La soft Andiamo Più alla possibile Ci dobbiamo fai cazzi I nostri Perché non puoi giocare Ne fa live Fino a martedì 44 euro Ma che 44 euro Ecco di Quattana Potrebbe andare 44 euro Dove andiamo A Tana quindi Un attimo eh Allora Andiamo lì Ok Dov'è Non lo vedo Oddio Ma sta là lontano Mamma mia Che coglione Grazie Giulio Allora Mattei Un giorno viene a Abruzzo A mangiare a Sicilia Gli arrosticini Ah assurdo Ma te Non fa Ah per te Eh lo so Me lo devi di tu Come ti chiami Devi scrivi il nome Tu Gli arrosticini Sì Non è male Non so male Gli arrosticini L'ultima volta Che sono uscito Con fan E mi sono trovato Un molestatore Ma non di altro Sì sì Ma se doveva fare il servizio Sì ci ha provato Ci ha provato E non lo conoscevo Così a scatola chiusa Matteo usciamo Dai usciamo Ok Era nel lontano 2017 Sono uscito con questo Porca puttana Tu lo vedevi Questo qua Che era proprio Cioè si vedeva Sulla faccia Che era interessato a me Ma non interessato Come fanno Interessato Che gli piaceva Il cazzo Porca troia Ma non è che Lì dovremmo No no Brutte esperienze Io ho chiuso I bondi con tutti Ma te qua Non ci stanno Armi No no Viene sta Una Pia quella Pia questa Vieni qua Allora Sì sì Adesso la prendo Ah guarda qua Bello Ci sta qualcuno Che pezzente c'è Ah sì Muori in mazzo tutti Non pusha Soft Soft Ma che soft Qua si pusha Andiamo Va bene Va bene Andiamo in lobby Ci stava Vabbè Subito io Ok C'è qualche pezzente Ma te Ma te la fusione Vieni qua Che è la fusione Andamme Che è Me cura No no E che ce faccio Eh Non è morto È di dragon ball Eh ma che cazzo Me ne frega Se me dai gli scudi Se me dai gli scudi Bene Se no no Che roba è qua Ah lo scudo Infatti è pusha Nella scelta Un po' Una pazzata Dici Non vale la pena Sì ma dove stavano I pezzenti Qua c'è lo scudo Ma te c'hai il prof Eh no Non ce l'ho Adi dopo essi Così in meno Ci puoi difendere No Dai chi è Ah ce l'ho Ce l'ho Ce l'ho E chi era che mi sparava Chi è Oddio Eh fuori 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 Ma attraverso il muro No Dai Ok st'arma smira Tutta smira Bravo bravo Occhio Tacco il muro E attraverso il corte questo E ci sta qua Ok Madonna Troppo po' Via C'è una bella bombetta Da qua Da qua Da qua Allora qua c'è sta tipo la schiuma La schiuma maschile Sì Lo champagne Esatto Lo champagne Ah ok Vai vai Venite qui Venite qui da me No perché io lo chiamo Lo champagne Oh gente Gente Vai vai Oh Chi è Oh quelli Quelli Ammazza Ammazza Oh oh Guarda guarda C'è una cazzo di ringuno St'arma Bravi bravi Ma sta cosa come si chiamerebbe Perché lo chiamo lo champagne Sta roba Vai vai E' meglio dello champagne Vai Come diceva quello E' meglio dello champagne Oh no Vabbè 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 No vai vai Meglio dello champagne Minchia Madonna Madonna Mattè Mai pensato di fare un video Come quello del Bavaro Un video come quello del Bavaro Ti ho mai pensato Allora Io ho fatto un sacco di esperienze Ok Tante Non dico che ho provato tutto Però quasi Eeeh Però Fare un video No Perché i video Sono cose troppo intime Private Non Qua ci stanno le bacche Se le volete Ti è che spara No Aspetta Mi flacco Vi e poi C'ho le splash Vi e qua I video no A posto I video non ce la farei mai A fare video Impossibile Questa Prende materiale Mi sono rincoglioni Video no Ma anche se Che ne so Che magari Che ne so No ci ho avuto proposte Anche da ragazze Che c'erano Sì sì Anche con soldi Ragazze che c'avevano Alli fans Ma hanno pure proposto 2-3-4 mila euro Che fa un video Bellissimo Eh no Ho rifiutato Ho rifiutato Perché Non è una questione Dei soldi Cioè Ha fatto bene Non voglio Non voglio Io pure a gratis Lo farei No 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 È tutto content Regà ma dove siamo andati A grande safe Sì ma è proprio Una cosa mia Che non voglio Farsi per soli E' sull'umore Se la manda Non voglio Che vadano Online Occhio Occhio Sparano Vai Ci torniamo Qua sono Tre team Circa Ma sei della Puglia No 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 Che Puglia Io ho Abruzzo Ah minchia Sembra di Puglia No perché Il dialetto È molto simile Stanno tutto a fondo Ma sono No pure sopra Stanno No che cazzo Tu hai Namo Io Pusha Pusha Vai a cazzo duro Vabbè Toccavo Scialli a questo Certo che fai Lasci la In due La Li chiudiamo A panino Li chiudiamo Due team Solo A panino Abbiamo cure Nel caso C'ho Due scendini Ma che me ne frega A me delle cure Avete Avete Colpiponto Dove stanno Morti tutti Morti Morti Ma te Sotto Li dendi Chi è Chi è Sti piacenti Dove A sopra A sopra Perché sto Balla Cazzo Questi Non riesco a prenderli Cazzo Con st'arma Di merda No Questa smira Troppo Smira C'è Per renderla Proprio Ferma Come faccio Questa La devi Modificare Non è possibile Cioè Spara tutto Drito E da vicino Dici Ma te C'è Una cosa Che la Può Dicolare Un po' Meglio Un po' Meglio Questa Che quell'altra Guarda Oh Chi è Parano Capito Matte Chi È che Ci sta Una cosa Può Modificare Cioè Ti togli Proprio Di In culo Sì Sì Lo so Lo so È Bisogna Trovarlo Però Ma Ci sta Qui vicino Ci sta Il bunker Ma Che Mi Sono Pippato Ninja Oggi Ma Voi La Vete Viste Le Che sta Il marzone Allora qua ci stanno 5 shieldini se volete se li volete prende voi io Ah è talbola champagne Matteo è andata solo rimaniamo uniti C'ho le visioni Cioè Non lo so Stai spaccando Matteo vai a fare l'operaio Dai nomina altri streamer che magari ti danno un po' di spettatori Vabbè non mi interessa Tutta visibilità Questa Fin quando sta qua e insulta Che cazzo me ne frega L'importante è che Dice cosa Ma no ma a me sai che cazzo me ne frega a me Cioè Anzi grazie che stai scrivendo queste cose Mi aumenti le interazioni su tiktok Sulle live Il male Non è che mi fai Non è che mi fai male Anzi Mi fai solo che in favore Entrandoci stupido Oh c'è gente 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 Chi sa che mi madre mi ha chiamato Eh un botta Tranquillo Una terra Eh gara si è un po' troppo Oh qua occhio occhio Ok ottimo Occhio occhio un altro Un altro Mi dissocio dalla bestemmia scusate che migliora live su fortnite prega 8 team rimanenti ma che in modo non gioca forte cazzo dici abbiamo la che è la che sta roba medaglione medaglione andiamo via ma te se trovo un gettino ti faccio una giocata vicende su tito che guarda la che deficiente c'è questo come farina ragazzo il giorno è un rimasto di quelli proprio gente occhio 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 quelli andiamo dietro l'albero così non ci possono sparare questi c'è nel fulmine ma te che quali scopo via però non scappa via però io volo volo è volo no 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 perché sono in quattro ok 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 si si non bussero però li prendo da destra e da sinistra li spari da lontano ma non bussero ai 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 fanno qua sopra raga ma raga andiamo dove stanno erano andate in l'isola ma andate che è l'unumine dell'acqua ma che è sta roba ah il dominio dell'acqua buono da vicino eh ti spara tre cioè spara un colpo ne ti da ti da tre colpi tu stanno bravo morti tutti sicuramente eccoli eccoli amici ringare sopra 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 sparano cioè guarda questi ah da sopra sopra vero sono mati quelle su un team intero sì sì infatti non ci sta andando non ci vado allora che facciamo scappiamo con l'auto venire ma poi c'è un bot aspetta qua non mi atterra cazzo andiamo che sta succede flaco tu vai da solo che non vai da flaco eh flaco occhio che qui si qui si possono bastarti eh vai su vai su vai su prendiamo la ria eh si larga non li vedo più vabbè oh dio fanno entrare no purello eh ci sta lo bot che rompe aspetta ecco a posto vai vai ok andiamo flaco no lo sto guidando io ma come no flaco vai guida se non c'è la patente eh si ragazzi lascia stare lascia stare me ne frega un cazzo a me anzi mi fa solo che piacere potremmo morire buongiorno a buone che facciamo a piede facciamo prima hanno detto che non c'ho la patente ragazzi ma sono tutti invidiosi ragazzi ancora non avete capito che sono invidiosi lo sai che me ne frega lascia verde sto sul web da 8 anni lo so sono invidiosi lascia bene comunque siamo 17 sei team no 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 cosa 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 lascia verde stavo per morire cazzo stavo per prendere mamma mia stavo per morire ci c'è la zittà di qua sta lì oh che fa restano oddio restano restano eh cazzo fin davanti fin davanti vai 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 guarda guarda 26 uno sta a sparare le bombe oh che cazzo matte matte attento 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 ma vai cosa fa bravo matte oh matte prendi questo e scappiamo oh c'è uno po' c'è chido qua sopra dove via questo e scappiamo ah non ce l'ha libero ok andato 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 ok dove stanno switch matte senza paura eh senza pure il caso eh non lo vedo dai che mi sembra sta qua 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 ahiai ucciso a foto perfetto ma fatto male ma fatto male no ce ne ho le cure ci vuol dire ma non so se deve sfracare un medici per 10 di vita oh ma l'ho qua davanti oh ce ne sta uno là davanti avete la bomba dove sta la bomba una bomba addio santissimo una bomba dove sta l'ho leggendario qua eccolo dove stanno stanno là andiamo in tutto che c'è un problema vai ci sci andiamo pure noi eh ci sci scura oh eh però rega siamo andati fuori safe ma te la prendi in cecchino no no ce l'ho già 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 siete full ho un asserto vai andiamo vai dove andiamo dove volete in safe vai andiamo perché è sempre un problema alla fine mo quando toglie mo toglie due di danno oh qua rega stanno qua stanno qua dove? qua 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 c'è uno a terra aia aia aiuto ho curati le quali non ci vedono ebbene la comina cura eh sì proprio che siamo in mezzo eh ma perché se no possiamo partire la safe capito uno morto a te se mi aiuti e vi faccio più veloce con il resto vabbè non fa niente sta arrivà? sta arrivare ci ho scappato comunque un giorno nulla di vita avete un merit qualcosa grazie grazie vaffanculo la madre ce ne abbiamo tutti dietro eh raga ci dobbiamo mettere dentro qualcosa e camperà ma te non sai in volo che sei più cioè altri ti contano come il corpo ragazzi stanno sparando la guerra è dei genitori ma c'è no niente c'è c'è ma dove sta questo? stanno lì sopra stanno lì guarda che bastardi ma te lo trovi tutti da questi ti trovo a te cioè è medica 102 a 1 forte regalano comunque di là se ne devo andare perché ce ne la sei qui ne aspettiamo qua su qui ricarica rica già sai oh sta qui sta qui sta qui arriva questo cerchino dove stanno i cecchini questo team contro quell'altro uno ci sta a bersagliare quindi attenti te ti colpiscono muori c'è una sola opzione via qua scude scildini ma vai bastardo no non ce la faccio non ce la faccio è e non si ferma e non si ferma ecco il terreno da dietro potrebbe io questo cecchino faccio veramente cagare con cecchino cazzo faccio cagare con cecchino io non ce la faccio sono proprio impedito non ce la faccio sembra uno che veramente che proprio non c'ho guarda veramente abbo secondi io conterei come è vinta no 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 è persa quindi no vittoria no vabbè ciao ragazzi ciao a te mamma mia porca troia addio santo grazie mille 77 frangolino grazie mille della sub core prime grazie mille grazie mille grazie mille xseba xx grazie mille bellissimo 31 mesi grazie mille yokako su una gamba yokako su una gamba ma che è sto nome yokako su una gamba ma te un po' che non ti seguo oggi sono passato qui e ti do il mio abbonamento ebbè non io cago su una gamba ciao bello grazie mille anche a logan simo 1987 e crim 98 ida grazie mille andiamo avanti allora c'è ale zaymon e zio cagnarfe c'è qualcun altro che vuole giocare con me in chat grazie mille misterone di tiktok ciao matt ah guarda 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 ciao 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 ragazzi ciao ragazzi allora pure l'amberjack c'è dopo come lo gioca allora bene 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 ciao Matteo ciao ciao allora spark spark chighietto 97 eccolo poi ci abbiamo mi devi invita però t'ho accettato no zaymon a zio cagnarfe non ci sta porca a zio cagnarfe invita a zio cagnarfe se no il primo che arriva eccolo magari la partita dopo tranquillo la partita dopo la partita dopo allora andiamo avanti vai mettete pronto vannuzzo vannuzzo zanta ma ce l'ho già tra gli amici vannuzzo 89 così ti chiami eccolo vanno questa me la segno eh io pensavo di aver stato citato non so perché è successo così io 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 e ditemi come vi chiamate ragazzi vi invito vi mando la richiesta allora allora lo bagniamo questo dai hai rotto il cazzo ti sei divertito per un po' dai mo basta eh quando uno rompe i coglioni rompe i coglioni eh Francesco Totti si te prego si si no 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 l'ho bannato per forza cioè era una rottura di palle mario xxviii trattino basso eccolo esiste ma chi è che sta dentro una chiesa ah non accetti richieste amicizia dice devi sbloccare richieste amicizia gioco con tutte le sub ragazzi con tutti quanti gli abbonati un attimo che devo mettere tra le barone bannate anche questo ma sta gente da dove viene fuoco se ti do una rosa no ma che una rosa ci vuole la sub qua a Bessone con l'abbonamento gioco con voi ciao aiuto mi diverto quando volano cioè do priorità a chi a chi fa la sub ok ma te mi senti? si ti sento ti sento siamo riusciti a giocare eh finalmente si mi ero piacere a giocare con te ma donna grazie grazie anche se faccio schifo però dove andiamo? ma fa niente dove vuoi tu? dove vuoi? dove voglio io? eh non lo so non so tu scegli perché ci stanno talmente tante cose andiamo qua al mondo sotterrato che va benissimo che ci sta l'acqua quella della fogna che a me piace l'acqua delle fogne la betta volete ragazzi? bravi grazie mille che me l'avete ricordato allora outcome era no prima no? ah ok già è partito è partito è partito ok grazie Umberto grazie mille 19 mesi di resa bacio enorme davis su carlo eh davis non lo so se davis boh dove volete sto scendo qua ciao Umberto 19 mesi capirai che onore giocare con questo monco ma mamma da e monca cazzo 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 guarda che figlio di merda che ha fatto ma ti scrive la gente simpatica ma guarda pure i commenti su ma pure i commenti su su youtube non è che so tanto meglio ma c'è gente che non c'è niente da fare si diverte non è che c'è niente da fare vive dei pregiudizi e le robe capito magari non lo so si ragazzi a terra 1 non gioco cato no io 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 l'ho provocato io si si va benissimo non è una peganza se ne è albordo prima adesso persone rubie ma chi va dietro? ma te son pubazzi ah son pubazzi adesso sono pubazzi ma te son pubazzi si si voglio oh che è che me sta piaù che è questa che sta me bello io vedete qua che ci facciamo lo shield vai 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 spruzza spruzza spruzziamo invece da leggere i sab sono due mesi che ti saluto ma hai ricambiato ma che dici serva nera ma non è vero qualcuno già a me ti dici beh no c'ho solo bene oh chi è c'è uno non capisco dove però non so dove non capisco dove andiamo andiamo l'impulso questo è buono va bene tutto va bene faccio un piccolo medikit al volo era morto subito questo era morto ah no ok ok c'è sta l'amici va bene arrivo a terra occhio agli altri eh sì sì sta qua sta qua a me sì niente è sempre arrivato a me ok easy vabbè fatti questo era mezzo botte sì sì fatti ma secondo te quale hanno migliori di Twitch perché gli ultimi anni di Twitch o di Twitch eh sì inteso dove magari aveva più successo mi ha pagato di più dove pagato di più non ho capito scusami ma dico in generale dove secondo te andava meglio non lo so guarda non lo so nemmeno io eh no perché adesso mi ricordo ogni tanto che pare che il fatto che sta iniziando a pagare meno i prime capito eh non lo so non lo so non lo so e questo purtroppo non so proprio come aiutate perché non sto facendo degli esperimenti adesso vediamo un po eh sì sì fai bene c'è una bella idea se vuoi poi c'è un medikit Gianni se vuoi spavaggiando un po eh ho visto ma che è sta roba? c'è moonwalk guarda quale sbietto di te ma che è? è a tempo che roba è sta roba? di cosa? ah ma sì sono delle sfide che ti danno XP di intriga o tipo un'arma forse Oh no ahahahah ahahahah ma se c'è gente ma Occhio, c'è Zeus C'è un tipo da me C'è un tipo da te, dove? Sopra Quasi fatto, qual it? C'è anche un lupacchiotto qua che mi segue Raga, quello è one Eh, ma dove cazzo va? Non riesco a seguire Beh, ma perchè questa cosa col dash Si può scostare e scappano via Aspetta che vengo Rumpono le scatole Grazie mille C'è uno che vola Eh, va giù Ecco, in fondo, tarda dietro Sì, sì, è tarato, è tarato C'è questo qua Tutto tuo Dove sta? È scappato verso nord-est Ma è atterrato, no? Non era a terra, avevi detto? Sì No, ho atterrato, inteso che ho atterrato con le ali Sì Eccomi Mi mangio la carne, bambini, chef Ma si aprono colpi bomba, assolutamente, urgente Vabbè, quasi qua Quasi così non la porto dietro Mi mangio la carne, quelli Sì, sì Eh, ma ho sentito Eh, ma ho sentito Eh, come si chiamava hai detto? Un po' Se mi sbaglio un po' Mi racconta la storia Io ti ho subito a guardarmi film Un pochetto più tranquilli, cose Sì Film quelli un po' più strappalacrime Poi mi vedo la merda, porca troia Io non so che cazzo è successo È più questo Oh, la banana me la peggio io, grazie Sono tutta tua E non so se è presente Non so neanche in realtà se posso dirlo Se fai pubblicità, ma è presente Geopop, Matte Chi? Geopop, quelli che fanno i video Eh, ho fatto un video riguardo quello Se ti è interessata la storia Ti racconto un po' come sono finiti in quella Sì, sì Sì, sì Racconta, racconta Eh no, praticamente racconta che sopra c'erano Una squadra di calcio, se non mi sbaglio Eh E che dovevano andare a fare Una partita La squadra di calcio aveva ovviamente i dirigenti E anche le famiglie E dovevano andare a fare una partita In Peru E però tra Peru e loro, adesso mi sbaglio Io non mi ricordo se era una squadra Mi sembra forse argentina o brasiliana E quindi dovevano soppassare le Ande Che sono le montagne che sono in quella zona E praticamente dovettero cambiare rotta Perché in quel periodo c'è una cosa chiamata il ligno Che è un fenomeno che si verifica ogni totta anni Che praticamente sposta un sacco di correnti Sia marine che dell'aria Ok E quindi praticamente hanno portato una grande tempesta Hanno dovuto cambiare rotta E in quegli anni lì ovviamente non c'erano le tecnologie che ci sono adesso Ovviamente quindi Cioè potevano vedere bene l'altitudine E pensavano di essere più in alto E iniziarono a fase di atterraggio Perché pensavano di aver superato le Ande E per caso che quando uscirono dalla nebbia Che si era creata E c'era la parete di montagna E ci andarono addosso E poi la storia è quella che vedi nel film Però adesso non succederà più una cosa del genere Perché ci stanno attrezzature e robe Sì 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 Adesso è molto difficile A meno che non viene proprio A meno che proprio non viene manomessa le cose Oppure errori di quello sull'atterraggio Sì sì Se non hai errori magari il computer da solo Però sono controllati sempre Ormai è quasi impossibile Sì è tutto controllato Ho detto che Sì sì È più probabile fare un incidente con la macchina Che sull'aereo Sì molto Beh Matte fai conto quante macchine ci sono in giro Quante macchine ci sono in giro O sul treno Esatto O sul treno è più facile da Eh sì perché ci sono anche molte più macchine Oh Figlio dell'altro Ditto per dritto eh Sì Andiamo No dai hanno abbandonato Ma chi è che hanno abbandonato? No Sono ne ho abbandonato Che fasiati Ah ok Una terra Due a terra Parti Gente 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 con il cecchino eh Si vissi qua davanti Ok vai Io vai che li prendo sicuramente li prendo Parti Ah no sono andato io che ho perso shield Ma ho un po' lì Che cecchino c'aveva questo? Dai dimmi che c'aveva un cecchino buono No che è? Non è un cecchino questo Poi Matte se ti interessa ti consiglio di guardare il video Che è molto interessante Io me lo ricordavo in grandi linee Ma è interessante Se mangiano le persone nude Cioè nude e frude Sì no ma racconta Non parla di quella parte Perché dice che tanto c'è il film Come l'hai visto tu quindi Non raccontano tanto di quella parte Raccontano più che altro Di come sono arrivati Ad essere in persecuzione Ok andiamo? Qua sparano eh Qua sparano forte qua Guardi Sì 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 Qua sparano Qua sparano Qua sparano Però certo Addirittura arrivare al punto Di mangiare una persona Per sopravvivere Mettiti nei loro panni Se tu fossi stato lì Cioè pur di sopravvivere Magnate i morti Magnate la carne del morto Eh però sono sopravvissuti Io ho visto tipo sul film Sul film Che tipo se mangiava Roba Roba strana Se mangiava Vabbè Certamente non deve essere Una bella sensazione Però se non mi sbaglio Sono stati tanto Là no? Ehhhh Trenta giorni Venti Eh madonna Poi è freddo Eh non è una cosa Bellissima Vai vai Arrivo Un medikit per il finale Dite? Ah aspetta aspetta Cerco un medikit Sì ci sono Ci sono L'avevo lasciati io due Però non mi ricordo Non mi ricordo solo Qua c'è un pollo Volete andare sull'isola? Che ci da armi buone Ma io non lo so Il dominio è buono? POR DIO 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 No Troppe 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 Adesso vediamo se riusciamo a restarti troppi occhio sulla casa sulla casa va a scappare è sulla casetta ancora da soli si riprende da soli delle pippe terribili gruppo in gruppo sparano tutti uno su quattro uno lo prende perché hai fatto di singe con gli schianto mai fatto di singe con gli schianto scusami non so di cosa tu stia parlando sono tutti dove c'è matteo non risponde non risponde perché hai fatto no non è che non rispondo cioè ernesto che è una cosa stupida perché io non ho fatto di singe con gli schianto non è che non dimostra gente particolare questa che scrive se robe cioè non lo so mandami la clip dove ho fatto di singa gischiando non è stato un piacere matti giocare cosa va beh ciao ragazzi ciao 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 ciao